Tutto come previsto al Palalivatino, gavettoni finali per tutti i meritati festeggiamenti per la conquista della B1 da parte della McService, Gela, tifosi, squadra, società, sindaco e assessore, tutti presenti per festeggiare l'assalto di categoria con una giornata di anticipo e con il Reggio Calabria, spettatore al Palazzetto dello Sport, Gioleese, tornato a casa con un secco 3-0 finale. Alla fine fiumi di spumante per tutti, magliette celebrative ed il taglio di codino del centrale Luca Testa Grossa che ha pagato pegno sul parchè del Palalivatino. Una festa promozione dunque che arriva con una giornata di anticipo e che rappresenta il giusto tributo per una squadra che ha battuto ogni record ottenendo 71 punti, sin qui frutto di 24 successi su 25 gare giocate, di cui 21 quelle ottenute di fila 17-3-0 e 6-3-1. Numeri importanti per il roster guidato dal coach catanese Domenico Tripi e sapientemente formato ad inizio stagione dal direttore sportivo Massimo Bonaccorso con quest'ultimo specialista nelle promozioni come quella oramai storica in A2 del 2011 e che in carriera ha accumulato già ben 5 promozioni sul campo. Abbiamo fatto una cavalcata impressionante, forse, no forse sicuramente di tutti i gironi siamo la migliore squadra. La migliore squadra della B2 d'Italia, quindi sono soddisfazioni. Era da tempo che la pallavolo maschile non provava emozioni del genere e noi siamo tornati penso alla grande. Questa società ha sempre dimostrato grande programmazione. Quando riusciamo a programmare bene riusciamo anche a portare risultati importanti. E questo è merito di tutti, non solo mio, del presidente, di tutta la gente che ci collabora, degli sponsor. Quindi quando riusciamo a fare un sistema concreto riusciamo a fare risultati importanti. Questo è l'ultimo giorno di festa, però sostanzialmente è stata festa ogni partita che abbiamo fatto qui, che abbiamo fatto fuori perché è una vittoria costruita partita dopo partita. Un gruppo meraviglioso, ragazzi eccezionali, ci siamo divertiti, una bella cornice di pubblico, va bene così per ora. A me mi hanno detto che le vittorie sportive dopo la nascita dei figli pare che siano le migliori soddisfazioni della vita. Io penso proprio che sia così. Che sia una B1 con tanto futuro per questa società che se lo merita, per la piazza di Gela che è una piazza importante, che ha bisogno di tanto sport e che deve proseguire così.